Prende il via da oggi l'elettrificazione della linea lungo la strada Parco tra Pescara e Montesilvano, mentre dal prossimo 15 febbraio, secondo quanto ha riferito il direttore generale della società TUA, Maximilian Di Pasquale, saranno avviati i primi test con i sei filobus che inizieranno a girare lungo i sette chilometri della strada Parco. Oggi sì, è una giornata decisamente importante perché da oggi l'intero sistema, inteso come opere civili, come tracciato, come struttura anche atta a trasportare, geletti e mezzi, iniziano a diventare un'unica opera, quindi diventa un sistema funzionale. Che cosa vuol dire parte l'elettrificazione? Parte ai fini della sicurezza la verifica, non è che della sicurezza e del corretto funzionamento, la verifica funzionale dell'intero impianto ed anche una verifica palo per palo per verificare che sia tutto quanto a posto. La verifica inizia con noi e con i tecnici dell'impresa, riguarderà in un secondo momento per la sottostazione di Via Europa anche l'Enel che attiverà le componenti che sono tutt'oggi mancanti e dopo a valle verranno gli altri controlli di legge. Da oggi, si legge sugli avvisi della società tua attaccati ai pali, si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto anche indiretto ed avvicinamento a distanza minore di 3 metri dalla linea aerea della filovia. Il contatto diretto o indiretto con i conduttori e gli isolatori delle linee aeree della filovia è pericolosissimo. L'obiettivo è quello di completare questa opera propedeutica correlata non solo alla verifica della parte elettrica ma nel frattempo verranno svolti piccoli lavori a complemento sempre riguardanti principalmente la sicurezza, quindi segnaletico orizzontale e verticale che chiaramente si mette per ultima ondevitare che si consumi e venga mentalizzata. la parte relativa all'entrata e all'uscita dal tracciato della filovia e a quel punto noi auspichiamo che, ecco la data, per il 15 febbraio possano iniziare a transitare i filobus per il periodo di prova. Concluse queste operazioni, affermato in fine di Pasquale, gli enti preposti potranno dare a seguito delle verifiche di legge l'autorizzazione all'esercizio.